Situazione ambientale è sempre emergenza nel territorio cratense, ma di chi è la colpa? Facile o difficile dirlo, a seconda dei casi. Attrazione di molti è andare sui campanilismi politici. Certo è che una cultura pro-ambiente non è mai spiccata in passato, tra filosofi dell'ultima ora, scleri quotidiani, e abitudine malsane, come lanciare i sacchi dell'immondizio al volo ingranando la marcia a tutta velocità, quasi come se fosse uno sport da far accreditare alle prossime Olimpiadi. Così ci meravigliamo in positivo per il progetto Kill the Trash, letteralmente uccidere la spazzatura. Nobile obiettivo di ragazzi rispettosi dell'ambiente bisignanese, con la comunità che senza dubbio deve fare un grosso applauso a Nicola Sputerio, Maria Guido, Pierpaolo Zicolo, Paola Ragazzone. Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Instagram Kill the Trash, nostra pagina Facebook, e vi invitiamo ad unirvi al nostro gruppo. Vi aspettiamo tanti. Sicuramente sono queste delle azioni da rilevare e da mettere in risalto, in un mondo abituato al brutto, dove l'esempio è rappresentato da altri generi non proprio edificanti. Dunque, dieci lode ai ragazzi, e per dimostrare che rispettare l'ambiente è qualcosa di bipartisan, ricordiamo a tanti il famoso detto calabrese. Uno può essere pure unoscenziato, ma se non duerde, sempre non duerde le mani.